segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te bisognerebbe non intervistare ma interrogare il colonnello dei tonno forse direi no perché se quando l'avete casa ganji mi piacerebbe mandarla perché importante che no scusi se posso solo si dico abbiamo una contraddizione sull'altra rispetto al quale allora il sospetto viene che sia vera la versione data e registrata dal nostro amico che è la gente rosso no no di sì che c'è un'altra serie di filmati che ci sono quella serie di filmati che poi sono finiti chissà dove questo è il sospetto legittimo che fa un ex pubblico ministero perché i filmati o ci sono là e fateli vedere perché altrimenti fatti vedere se c'è su casa ganji se non ci sono scusi giretti le cose sono due o abbiamo a che fare con una con un ufficiale un alto ufficiale ormai alto ufficiale dei carabinieri che racconta fandoni una dopo l'altra oppure ma forse sarà non si ricorderà non si ricorderà